Allora Giuseppe Verdi avrebbe voluto chiamare quest'opera la maledizione. Che cos'è una maledizione? È una previsione, è una profezia, una profezia con sfondo nefasto. È immaginare o desiderare che possa succedere qualche cosa di terribile a qualcuno, qualche cosa che avviene in due tempi. Primo è il tempo della predizione di un fatto, il secondo momento è che questo fatto possa compiersi. E così avviene, così è raccontato in una maniera straordinaria in quest'opera, la maledizione noi la sentiamo e la ascoltiamo già nelle note del preludio. Ed è per questo che per esempio vedremo un'immagine molto precisa nel preludio che è quello che ci porteremo appresso nell'immaginario fino a quando questa maledizione si compirà. In questo momento non vi racconterò assolutamente qual è questa immagine. È straordinario che Giuseppe Verdi abbia semplicemente raccontato in questi, in due tempi, quello che fisiologicamente è tanto per la profezia quanto per una maledizione. In una previsione di qualche cosa che è nefasta oppure invece gioiosa si sviluppa in questi due tempi. Di fatto ci troviamo nel preludio per quanto riguarda la prima volta che ascoltiamo il tema della maledizione, poi naturalmente la finale dell'opera, finale del terzo atto. In questo senso diciamo che la maledizione o la previsione o la profezia sempre hanno un contenuto esoterico nel senso di non svelato, non completamente svelato, quindi non esoterico, ma esoterico, quindi non completamente raccontato. Ed è in questo senso che è interessante quando di un'immagine che ci è chiara, ma di cui non ci è chiaro completamente lo scopo, il significato, ne scopriamo invece tutta la compiutezza quando c'è la manifestazione o della profezia o in questo caso della maledizione. Così sarà, così sarà e così potremo scoprire questo momento straordinario che mette in relazione, forse è uno dei momenti che mette più in relazione Giuseppe Fortunino Francesco con Victor, quindi Verdi con Hugo, perché poi questo è un aspetto fondamentale di questo straordinario capolavoro che forse come nessuno riesce a raccontare le umani e strazianti fragilità della nostra vita. Victor Hugo con Le Roi Samus parla del potere, parla di questo rapporto devastante che il potere ha sulla gente, sulla corte sì, ma poi ha pericaduta sulla gente e naturalmente è raccontato in maniera ammirabile in musica da Giuseppe Verdi e non dimentichiamoci da Francesco Maria Piave perché il libretto di Piave è come tutto quello che lui ha fatto per Verdi, è una straordinaria traduzione e un servizio totale a quella che è la poetica e la narrazione di teatro musicale di Giuseppe Verdi. Quindi rimaniamo per il momento a raccontare in questa puntata, questi due momenti, la maledizione nel suo divenire, nel suo apparire quasi come una sorta di, non solo di profezia ma di profezia inconscia che Rigoletto si vive per poi vederla manifestarsi in tutta la sua crudezza e aspetto terribile nel finale. Un finale che comunque ha delle sorprese da un punto di vista registico ma non per farla diversa dal perché lui la vuol far strana, no perché è scritto così e lo racconteremo un'altra volta.